Ragazzi che non parla? Laura ciao Scusate Usate un cento Ragazzi noi che saremmo un centimetro dalla faccia Non parla Eh, mi vedo un piatto Ciao Bello E' pietro? Cerca Dove è pietro? Sto da qua Scusate La facciamo Vediamo Scusate Possiamo fare una domanda? No ragazzi non parla Ci avevo detto Neanche una battuta Neanche una battuta sul morale No, non vuole parlare Io mi riferisco a quello che vuole A Dio suo Come? Una roba Eh, l'immagine? Scusate Grazie Scusate Scusate Emanuele Te lo preoccupate Quattro No, no, no Non so, parla manco là E lì Può girarsi di qua di fuori? Va bene Ciao 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 Come fa? Forca trota E ragazzi Ma è tutto Non mangi Melevo, melevo Eh Sì. Abbiamo fatto un libro sulla storia del municipio e delle lotte particionali. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.